Oggi vi mostro i tre metodi più comuni per fare orli agli abiti. Il primo è indicato per orli dritti ed è anche più semplice da fare. Consiste nel rigirare in sul tessuto due volte, prima un centimetro e poi 4 o 5 centimetri a scelta. E infine semplicemente si fa una cucitura nella parte alta dell'orlo rigirato per fissarlo. Il secondo metodo serve per fare orli curvi e consiste nell'applicare una striscia di stoffa per rifinire l'orlo. Questa striscia deve essere tagliata con la stessa forma e margini dell'orlo dell'abito. E va cucita l'abito dritto contro dritto a un centimetro, rigirata verso rovescio e stirata dall'alto. E infine va cucita anche nella parte alta per fissarla. E l'ultimo orlo a macchina che vi mostro è l'orlo invisibile. Pieghiamo il tessuto a 4 centimetri dal fondo e poi creiamo una piega morbida sul rovescio in modo che resti visibile un centimetro e mezzo di stoffa oltre la piega. Scegliamo il punto orlo invisibile e facciamo la cucitura con il piedino apposito per orle invisibili.